Allora io mi chiedo, ma qual è la logica politica che è ispirato? Io capisco che la Lega è nata su basi autonomiste e spinte, il disegno bossiano, posso capirlo, ma quel che non capiamo è come mai un partito che ha la fiamma tricolore, ancora orgogliosamente nel vessilo, nella propria bandiera, come fratelli d'Italia, un partito che si autodefinisce di patrioti, abbia potuto sottoscrivere un progetto del genere, come l'abbia potuto fare anche Forza Italia, che pure dimostra di voler avere una visione unitaria del Paese. Ma noi siamo arrivati all'assurdo che addirittura esibire il tricolore italiano, qui abbiamo il nostro donno, provoca una tale allergia, una tale reazione schizofrenica, addirittura da provocare un'aggressione, una rissa. Ma cosa c'avete contro il tricolore italiano? Grazie a tutti.